5, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Per due giorni Bassano diventa la città dello sport. Oggi pomeriggio il primo dei due momenti di festa con l'ormai tradizionale sfilata delle società sportive bassanesi. Quasi mille ragazzi che si sono dati appuntamento in piazza per poi arrivare tutti assieme fino al brollo di Palazzo Bonauguro e assistere allo scoprimento della targa di Bassano, città europea dello sport. L'occasione perfetta per mostrare alla città la forza del movimento sportivo che spazia dai tradizionali calcio, basket e pallavolo agli sport rotellistici, dalla danza alle arti marziali passando per il nuoto, il tennis o il rugby e domani dalle 10 in Parco Ragazzi del 99 il momento più atteso con l'immancabile Città dello Sport, un'intera giornata per conoscere e provare tutte le discipline presenti a Bassano e per divertirsi nel segno dello sport. Grazie